Jacopo Entini, cooperante Aquilano di 28 anni per l'ONG di Palermo CIS, torna a casa dall'inferno di Gaza. Il giovane Aquilano, con la sua compagna palestinese, anche lei nell'organizzazione, era uno dei pochi italiani bloccati a Gaza sotto ai bombardamenti. Il sindaco Pierluigi Biondi ha dato l'annuncio personalmente ed è stato sempre in contatto con la Farnesina per assicurarsi del rientro del giovane che si trova al Cairo. Questo rientro segue quello di un'altra Aquilana rientrata da Israele, Alessia Perilli, con la sua famiglia. Laura Canali, Maia Papotti, Giulietta Brattini e Jacopo Entini sono i primi quattro italiani, volontari di ONG internazionale, che hanno lasciato Gaza attraverso il valico di Rafa, nel sud della striscia, raggiungendo l'Egitto. Il ministro degli esteri italiani ha confermato che quattro sono usciti dalla striscia, ha parlato direttamente con loro e con il funzionario dell'ambasciata al Cairo. Stanno tutti bene, nonostante siano molto provati inevitabilmente dalla situazione. Ora si lavora per gli altri. Sono provato ma sto bene, ha detto l'Aquilano Jacopo Entini, che è molto conosciuto anche per il padre pianista di livello in città. Il nostro ruolo è di stare a fianco della popolazione, ma le condizioni drammatiche sul campo non ci consentono di lavorare. Questo ha detto a Cipolla, presidente della sua ONG di Palermo, poche parole perché la connessione non è ottimale. La loro uscita da Gaza è coincisa con il bombardamento del campo di Iabalia, che è un'importante serie di lavoro dell'organizzazione non governativa. In questi mesi Entini aveva sempre raccontato sugli organi di informazione la sua esperienza.